Buongiorno sul porto di un traghetto credevo di vedere entro al mare il tuo riflesso le luci dentro al porto sembravano lontane ed io che mi sentivo felice di avviudare e mi cambiava il volto la palma mi cresceva trascorso i giorni interi senza dire una parola e quanto avrei voluto in quell'istante che ci fosse e che ti voglio bene veramente e non esiste un luogo dove non mi togli il vento avrei voluto averti veramente e non sentirmi dire che non posso farci niente hai fatto molte più risposte se avessi chiesto a te ma non fa niente non posso farla ora per essere così lontano e sentirei dirvi che il viaggio cambia o no e tutto di partenza sembra ormai così lontano la vita non è un posto ma è quello che proviamo e non sappiamo dove e quando ci arriviamo tra scorsi giorni interi senza dire una parola vedevo che fossi davvero lontano sapessimo prima quando guardiamo che il senso del viaggio è lamentare perché ti guardo bene veramente e questo è un luogo che non mi togli a me e ho venuto a me liberamente e non sentirmi dire che non posso farci niente lo più che Kitty che non si trattava per ora ripetuvi che non posso farla ora Oh Oh Grazie.